ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo secondo video di giornata ovviamente non possiamo tornare non tornare sull'argomento legato a paolo di bala di cui abbiamo già discusso ampiamente nel primo pomeriggio quindi subito verso l'ora di pranzo è arrivata anche una nota ufficiale della gentri paolo di bala orgiantun che sottolinea come paolo si è concentrato sul finale di stagione alla juventus sulla finale di coppa italia e che al momento non ci sono ancora firme né accordi con nessuna squadra né in italia né all'estero quindi in questo momento secondo quanto riportato dall'entourage ufficialmente di di bala non ci sono trattative concluse ma questo non significa che non ci siano offerte e questo non significa che non ci siano offerte anche lato inter quindi vediamo che cosa accade in questo momento però paolo di bala tramite del suo agente ha fatto sapere pubblicamente che ad oggi non c'è nessun accordo con l'inter o con nessun'altra squadra questo calmerà tutto secondo me no assolutamente no perché come erano bizzarre le voci a sette giorni dall'inizio del fischio di inizio scusate la ripetizione di juventus inter finale di coppa italia penso che faccia parte del gioco oppure questo poi per quanto mi riguarda un'offerta di bala dell'inter ce l'ha secondo me io io questa sensazione ce l'ho perché conosciamo bene beppe marotta sappiamo bene che come ragiona come lavora quindi secondo me l'inter un'offerta di bala l'ha fatta poi da qui a dire che di bala andrà all'inter passa di acqua sotto i punti tantissima una cosa che mi sono dimenticato di dire nel video di oggi che è molto importante è che finalmente la juventus ha cambiato un approccio in chiave mercato per una volta abbiamo aggredito il mercato su un calciatore importante della juve non so se ricordate penso proprio di sì quando quest'estate cristiano ronaldo a tre giorni dal termine della campagna acquisti eccessioni chiede di andare via fa di tutto per andarsene la juventus rimane un attimino sconvolta forse viene colta anche impreparata perché non eravamo pronti ad affrontare una situazione in emergenza come quella che si era venuta a creare invece la juventus questa volta rifiutandosi di sottoporre a paolo di bala un rinnovo di contratto va ad aggredire il mercato e si prepara per quella che sarà la campagna acquisti e questo secondo me è una cosa molto 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 intelligente interessante al di là del fatto che sia di bala è intendiamoci perché sapete come la penso io l'avrei rinnovato paolo di bala quindi non è questo il punto però la juventus che finalmente prende una decisione è che non deve subirla diversamente da parte di un calciatore è la juventus che ha deciso di non proseguire con paolo di bala e non viceversa quindi significa che la juve ha ben chiaro in testa come andarlo a sostituire e qui voglio parlarvi di due nomi perché logicamente a un certo punto noi dovremmo immaginarci un attaccante che vada a sostituire a sostituire paolo di bala e qui entra in gioco anche il di maria in tanti mi hanno chiesto luca ma che senso ha prendere di maria invece che confermare di bala con di bala che è più giovane di bala che conosce la juve di bala che conosce il campionato italiano di maria è più vecchio prende tanto è sul via del tramonto ma intanto sono due giocatori diversi sono molto diversi di bala è una seconda punta di maria un giocatore che gioca anche sull'ampiezza quest'anno abbiamo provato a mettere di bala largo a destra soprattutto quando è arrivato a vlaovic quando abbiamo fatto quel tridente con morata però sappiamo bene che paolo di bala lavora per via centrali anche il di maria un giocatore strano perché dove lo metti gioca la decima corre al madrid ha fatto la mezzala praticamente più tutto l'esterno da una parte del campo quindi giocatore che a seconda di quella che la richiesta allenatore riesce a giocare sia per via centrali quindi può fare il trequartista può fare l'incursore sia per via esterna giocatore molto più abituato anche a prendere l'ampiezza poi per quella che secondo me sarà l'esigenza di massimiliano allegri ecco di maria me lo immagino magari girare intorno alla punta e magari senza dover tornare o andare a difendere a tutto campo come potrebbe venire chiesto per esempio guan quadrado che è un giocatore che quella cosa lì ce l'ha però magari mi sto facendo un viaggio io e non sarà così perché dico di maria perché a quanto pare la juventus l'offerta di maria l'ha fatta sul tavolo di maria ci sarebbe davvero l'offerta della juve e starebbe seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi trasferirsi in italia io di di maria ho già parlato mi sono già espresso per me un anno più un opzionale di di maria lo faccio firmare immediatamente non ci penso su due volte è un grandissimo sì per me di maria se devi tappare un buco se ti serve un giocatore in quella posizione è l'ideale perché noi non ci abbiamo questi giocatori di personalità questi giocatori di esperienza sono giocatori che servono a massimiliano allegri per completare eventualmente un tridente appunto con blauvice chiesa e andare a fare degli step un classe 97 come chiesa un classe 2000 come blauvice un giocatore fatto finito sul via del tramonto ma con una grandissima appunto esperienza internazionale come angel di maria che potrebbe dare proprio il cambio quadrato eventualmente nel tridente o quello che sarà comunque un giocatore come di maria sicuramente non farebbe male alla juve però poi mi aspetto anche qualche altro investimento per dire se esce morata o se esce can ecco anche l'ingresso di raspadori perché è ovvio che se la juve ha un progetto sui giovani deve sì magari prendere un giocatore esperienza come di maria che può tornare utile però l'investimento va ovviamente fatto su un giocatore con un'età media più bassa e raspadori potrebbe essere un punto di partenza ma anche di questo già parlato siccome raspadori non sarebbe l'erede di dibala non sarebbe un giocatore che che andrà proprio a prendere l'eredità no il numero 10 o comunque la presenza in rosa ma un giocatore che andrebbe a prendere o il posto di morata o di moise che una seconda di quello che si deciderà di fare con gli attaccanti della juve perché potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nell'attacco della juve non sarei sorpreso lo dico subito di vedere tre uscite quindi dibala morata e che aggiungo quattro bernardeschi non sarei davvero sorpreso vedere quattro uscite dalla juve un ufficiale paolo dibala un ufficiosa bernardeschi vediamo che ne morata cosa succede anche perché comunque moise che ne è nella scuderia di minora io anche qua potrebbe rimanere benissimo dentro l'agenzia nonostante la scomparsa del procuratore però vediamo perché sicuramente mino era uno degli uomini di fiducia di nedved e soprattutto un grande lato della juve in chiave mercato lo è stato tanto in questi anni quindi vediamo se sotto questo punto di vista qualcosa potrà cambiare e per quanto mi riguarda sì qualcosa potrebbe cambiare perché come sempre le trattative tra società procuratori giocatori sì ma sono sempre persone e quindi contano i rapporti umani tra le persone quindi secondo me qualcosa potrà cambiare attenzione perché si mormora che ci sia addirittura un accordo tra juventus e milinkovic avic anche di questo avevo già parlato in realtà se ricorderete ho fatto addirittura già l'analisi tattica quella che potrebbe essere la juve con milinkovic avic e avevo detto anche che secondo me quindi prendete la colla e pinze lui sarebbe il vero e proprio erede di paolo di bala quindi mi immagino un di maria che entra magari al posto di bernardeschi un raspadori che entra al posto di uno tra morata e moise ken un milinkovic avic che entra al posto di di bala quindi spostare l'attenzione di un grande colpo magari con un grande ingaggio come quello che poteva essere di bala o un ingaggio minore come quello che andrebbe a percepire milinkovic avic a cui però devi aggiungere soldi per il cartellino e si parla di milinkovic come prima scelta di massimiliano allegri prima opzione per massimiliano allegri con la juve che vuole fare almeno un grande colpo a centrocampo e si sta mormorando il nome di pogba che c'è sempre ma anche di de jong io ragazzi qua devo devo essere il più onesto possibile con voi perché io queste cose le leggo io vedo nei commenti che la richiesta da parte vostra è parlane faccio un video non so se hai letto hai visto però io su milinkovic avic e su de jong ho dei grossi dubbi io non lo so sarà che forse in questo momento sono ancora un po pessimista per quello che potrebbe essere il mercato della juve a livello di qualità perché secondo me sarà necessario aggiungere tanti tasselli alla juventus non dimenticatevi mai il difensore centrale perché servirà a fare qualcosa in quella posizione del campo non dimenticatevi il terzino sinistro romeo ce l'ha detto terzino sinistro centrocampista un attaccante io dico difensore centrale quindi occhio perché se devi fare 3 4 5 colpi poi faccio fatica a pensare che la juve possa avere il potere di fuoco di strapagare anche un cartellino perché prendi de jong io immagino 60 70 80 milioni di euro milinkovic savic penso pure dovessi sceglierne uno allora secondo me de jong è più forte è più giovane è più pronto anche a livello internazionale rispetto a milinkovic però forse a noi serve una mezzala che possa aiutare l'attacco a completare la casellina dei gol che mancano e quindi credo che uno con milinkovic possa essere più adatto alla richiesta attuale della juventus una mezzala in grado di creare occasioni da gol con gol assist fisicità centimetri quindi milinkovic mi sembra il colpo davvero perfetto per la juve di allegri io credo che quello sia il nome principale sul quale focalizzarsi però rimango di questa idea io se penso la juve che vada a tirar fuori tutti questi soldi perché lo titolo sicuramente vorrà una richiesta elevata e uno stipendio che comunque non sarebbe chissà che cosa perché si parla di 4 forse 5 milioni di euro quindi niente di che ma la parte fissa del cartellino senza ovviamente inserire delle contropartite la vede una cosa complicata poi bisogna sempre fare un ragionamento sul centrocampo perché il prossimo anno avrai rovella fagioli dovrai decidere cosa fare di miretti quindi dei centrocampisti te ne entrano anche che cosa fai con arthur che cosa fai con rabbiò che cosa fai con mccenni cioè ram sei che torna al prestito quindi attenzione ragazzi perché la juventus non farà 4 5 centrocampisti non è che rivoluzionerà tutto il reparto perché alcuni rientreranno alcuni sono già tuoi quindi un attimo di concentrazione un attimo di calma non abbiamo ancora ben capito come vogliamo giocare se sarà 4 2 3 1 se sarà 4 3 3 cambia è il numero di centrocampisti disponibili che la valutazione che verrà fatta sui ragazzi che magari partiranno come secondolini ma potrebbero diventare importanti io credo che miretti non sarà la juventus l'anno prossimo penso che andrà a farsi le ossa in prestito in una squadra di serie a o di serie b quindi uno tra rovella e fagioli non lo so io c'ho questo centore che possa essere più rovella che fagioli perché almeno un anno in serie a l'ha fatto però fagioli il procuratore l'ha detto un altro anno in prestito anche no e poi dopo andiamo in scadenza quindi la juve decida è un quadro a cui stare attenti poi vi dico secondo me arthur è il nome principale per la juve in uscita non sarebbero tristi di cedere nemmeno rabbio perché è un ingaggio importante proveranno a tutti i costi a cedere alexandro chiellini potrebbe uscire quindi a me sembra quasi quasi assurdo pensare oggi oggi come oggi ma è la mia opinione che la juve possa fare davvero un colpo da 70 milioni di euro solo per il cartellino poi l'abbiamo fatto quest'inverno con vlaovic certo l'abbiamo fatto indubbiamente però era appena uscito cristiano ronaldo e si era appena ha rotto un crociato chiesa e se penso che abbiamo tre quattro attaccanti magari in uscita e un paio di difensori almeno è almeno un paio di difensori da buttare dentro l'organico a centrocampo forse mi immagino un solo colpo un solo colpo e almeno due se non addirittura tre cessioni tra questi giocatori che abbiamo elencato quindi inizia essere un'aggiunta di notizie spropositata senza dimenticare che comunque zaccaria per dire appena arrivato sta impressionando bene non so io questa roba di milinkovic faccio un po fatica sinceramente a crederci lo dico onestamente lo dico proprio tranquillamente mi risulta strana capisco perché un giocatore con quelle caratteristiche che gli serve capisco perché andrebbe a prendere la posizione di dibala quindi quello spazio salariale e quell'investimento che non si è fatto per ribala andrebbe fatto lì però secondo me ci sono tante altre precedenze perché l'attacco della Juve secondo me verrà smantellato più chiesa che non sappiamo come rientrerà quando rientrerà quando sarà disponibile mi ha parlato anche nel video di ieri e la difesa che anche quest'anno ragazzi se arrivi a giocarti la semifinale di ritorno di champions league con rugani ed esciglio titolari significa che sì se quelle sono riserve per fortuna ci sono quando c'è bisogno ma significa anche che i titolari quelli che dovrebbero giocare al loro posto bene sarà sfortuna però io continuo a ricordarmi almeno tre eliminazioni della juventus in champions in cui giochiamo titolari con rugani ed esciglio è sfortuna tutti gli anni o probabilmente c'è bisogno di rifare qualcosa da quel punto di vista lì aggiungo che demiral dovrebbe essere ceduto proprio in questi giorni all'atalanta titolo definitivo per i 20 milioni pattuiti più quelli di prestito quindi ci dovrebbe essere non mi ricordo forse una trentina di milioni circa e ora cerchiamo un difensore ma già quest'estate sembrava un po' follia cedere dei miral per tenere dentro rugani col senno di poi posso dirlo avevo ragione come avevate ragione in tanti a sottolineare nei video me ne faccio poco di questa palma dell'avevo ragione avrei preferito avere un difensore centrale in più in rosa che poteva magari permettersi di giocare titolare nella juventus del domani o in un ottavo di champions league e invece siamo usciti anche quest'anno molto bene fatemi sapere un po' cosa ne pensate di queste cose fatemi sapere se invece voi credete nel grande colpo a centrocampo secondo me la juve farà un mercato in cui magari spenderemo che ne so anche 150 milioni di euro ma nei quali prenderemo 5 6 giocatori forse 150 milioni sono tanti però forse possiamo anche calare con la cifra però sì almeno 5 6 ingressi me li aspetto a mentre spegnevo mi è venuto in mente non dimentichiamoci che abbiamo riscattato chiesa che anche lì ne sono partiti dei soldini grazie